Nel teatro Auditorium dell'Istituto Vendramini di Pordenone sono stati presentati i vincitori del concorso musicale Un Testo per Noi, edizione 2015, organizzato dal coro Piccole Colonne di Trento. Il concorso Un Testo per Noi è un concorso che si rivolge a tutte le classi delle scuole primarie d'Italia e non solo. Praticamente arriviamo in tutto il mondo nelle classi dove si studia l'italiano. Invita le classi a scrivere il testo di una canzone. Una giuria sceglie dieci vincitori che diventano tutti vincitori pari merito. La scuola di Vendramini di Pordenone ha vinto di nuovo, perché ha già vinto spesso in passato, ma non si è contentata di vincere. Ha stravinto, perché quest'anno sono ben due le classi che hanno scritto i testi, due testi diversi, quindi fra i dieci vincitori. Le due canzoni sono state musicate la Fiera del Fantasma da Paolo Baldam Bembo e la Danza del Mal di Panza dal maestro Alterisio Paoletti, che è un grandissimo musicista, direttore d'orchestra e arrangiatore di Albano. All'evento era presente l'assessore all'istruzione Flavia Rubino. È un piacere per me presentare anche quest'anno il concorso che i bambini del Vendramini hanno vinto come scrittori di un testo di canzone e come scenografi di una canzone. È la settima volta che viene vinta con otto canzoni. Sono canzoni veramente eccezionali, scritte dai bambini per i bambini e questa è la cosa più importante. Tra l'altro Pordenone ha veramente una tradizione nella musica per i bambini, una tradizione che io spero non si perda e che questi piccoli cantori, questi piccoli musicisti possano diventare un grande esempio per la nostra città.